Un cordiale saluto a tutti voi dal vostro amichevole tizio qualunque di quartiere, video assolutamente non previsto, video assolutamente improvvisato, è uscito il trailer di Civil War, l'ultimo trailer di Civil War, che dire, si vedono quelli che sono le motivazioni, ma che cazzo me ne frega, c'è l'uomo ragno, c'è l'uomo ragno ed è perfetto ragazzi, allora il costume non è quello perfetto, preciso del fumetto, ci sono delle righe a V nel co, sti gran cazzi è perfetto, non so come dirlo, sto riguardandolo adesso, gli occhi che ricordano, per niente l'uomo ragno di Romita questo ragazzi, l'uomo ragno di Romita con il ragnetto piccolo, con con gli occhi come li disegnava Romita, con il particolare che si chiudono e praticamente torna quello che si era visto tempo fa come leak, cioè questi occhi tondi che si chiudevano, che verranno montati a quanto parla nel costume da Tony, c'è l'uomo ragno, che mi posso dire di più, sono veramente estasiato, sono veramente euforico, no vabbè battute a parte, è un trailer che semplicemente amplia quello che avevamo già visto, ci fa vedere che quella che sembra essere appunto la Civil War, che ancora ha quel sapore di schermaglietta, però già un po' di più adesso, vedere poi come sarà convolto Ant-Man, che sappiamo tutti poi non sarà solo Ant-Man, vedere la dinamica tra Visione e Banda, vedere quale sarà il fatto di Rodei, di War Machine, sono, allora, se prima di questo film me ne fregava relativamente poco, adesso io non vedo l'ora di vederlo, poi è vero che non è, cioè sembra un po' CGI-oso questo uomo ragno, però è l'uomo ragno che aspettavo, l'uomo ragno che volevo, per quanto il costume di Amazing Spider-Man 2 fosse perfetto, questo, bellissimo, sono ancora, sono proprio ancora in confusione, madonna mia, ciao a tutti!